Non ce l'ha fatta Gianna, la donna di 50 anni vittima del gravissimo incidente di martedì pomeriggio alle porte di Arezzo. È morta nella notte all'ospedale di Chiareggi dove era arrivata in condizioni disperate con l'elisso corso Pegaso. Si aggrava così in maniera drammatica il bilancio dello schianto che ha spezzato una famiglia e lasciato senza genitori un giovane di 25 anni ancora ricoverato in gravi condizioni alle scotte di Siena. Il padre, Francesco Diana, era morto poco dopo l'arrivo in ospedale a seguito dell'incidente lungo la strada provinciale 21 nel tratto da Chiania di Indicatore all'altezza dell'Interporto. Uno scontro frontale tra una Porsche e una Skoda. Un impatto violentissimo, la Skoda si era rovesciata in un fosso al lato della strada mentre la Porsche aveva finito la sua corsa decine di metri più avanti. Alla guida un uomo rimasto sotto shock ma che non avrebbe riportato lesioni. Ad eseguire i rilievi era stata la polizia municipale che adesso dovrà ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. La nostra comunità si stringe attorno ai parenti e agli amici della famiglia Diana, ha scritto in un post Sergio Chienni, il sindaco di Terra Nuova Bracciolini dove la famiglia abitava. Gianna e Francesco erano persone buone, amate e genitori premurosissimi, oltre ad essere parte della crisalide. preghiamo e speriamo per il figlio perché possa essere al più presto fuori pericolo.